Grande errore, dall'altra parte, 20 secondi Luca, uh, Rabello quella lungo, Rabello quella lungo, il grande Luca Maresca urla perché è carico, non vedeva l'ora di essere in questa finale, qui a Parigi carica il pubblico, incredibile, grande Luca, siamo super contenti di vederlo di nuovo in una finale, in una Premier League, ha fatto il suo ingresso, accompagnato da Cristian Verrecchia, suo coach azzurro ma anche suo coach nelle Fiamme Oro, gruppo sportivo di appartenenza di Luca Maresca, ho fatto un mix guardando da Costa perché questo che ha fatto il suo ingresso ora in questa ovazione generale, beh, gioca in casa, è Steven da Costa, è anche lui un fenomeno della meno 67 kg, è l'idolo di casa, comunque questo sorriso sul suo volto, davvero non vedeva l'ora di giocarsi questa finale, davvero noi non vedevamo l'ora di rivedere Luca Maresca qui, perché si merita finali di questo calibro dopo delle eliminatorie pazzesche e dopo un anno dall'altra Premier League di Parigi, perché già nel 2019 era in finale, proprio qui, sempre nello stesso stadio di Pierre de Coubertin e Luca Maresca si aggiudicò l'argento, oggi non vuole sbagliare, ma di fronte a sé, a questo grande ostacolo chiamato Steven da Costa, che è già partito subito deciso con questo Mavashi Ciudan, ma ha fatto ben vedere chiaramente a tutti Luca Maresca la sua parata. Il Sanza era avvicinata, uè 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 uè, no, ma no, ma no, ma cosa è successo? Allora qui c'è da dire, grande, gigantesco errore di Luca, perché comunque non si deve mai girare la schiena, non si deve mai mollare lo sguardo e litazione verso l'avversario fino alla fine, finché l'arbitro centrale a darti lo stop, quindi qui grande, grande errore, dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte, è questo che Mavashi, che Mavashi. Dall'altra parte è stato fischiato, nonostante giocassi in casa, Steven da Costa per quel gesto che insomma mancava un po' di fair play, poteva evitare effettivamente, però sai, se stiamo giocando comunque una finale, una medaglia, vabbè, vale tutto. Ad ogni modo, si riprende subito altri tre punti con un Mavashi incredibile, velocissimo, questo è un punto su cui non si può veramente dire nulla. Oh, era ottimo, quel Mavashi Ciudan di Luca, non si deve arrabbiare, non si deve arrabbiare, si sta un po' scaldando, si sta nervosendo probabilmente, non capisco se verso gli arbitri o verso l'avversario non lo vedo più così sereno come il suo ingresso. Ad ogni modo, un bel Ciudan, poi la risposta di Steven da Costa e qui c'è la video review. Luca, devi alzare un po' i litri, non passare il proprio tempo. Va bene, va bene con quella guardia, va bene. Va bene con quella guardia, ma prepara bene prima di partire. C'è tempo per recuperare, Luca. Luca! attendiamo e attenzione qui tornando al discorso precedente della russa vale la stessa cosa da questa inquadratura sembra esattamente la stessa situazione cioè con le braccia in avanti di Luca e il piedino blu che invece avanza va verso la testa e quindi vedete io qui vorrei anche in questo caso rivederlo da un'altra angolazione oppure nel replay perché la situazione sembrava la stessa la video review però prima è stato dato e ora no insomma bisogna comunque un attimino anche dare spiegazioni sotto questo punto di vista perché verso Tokyo non si possono fare cose così diverse in una situazione molto simile devo spiegare qualcosa anche io no al mio pubblico video review questo è Christian Verecchia eccolo qui che si alza in piedi e chiederà video review per questo attacco di Luca eh beh buono vediamo ah va oltre abbassandosi per tirare la gamba è andato è andato oltre attenzione negativo negativo peccato forza Luca è ancora lunga un minuto e ventiquattro può succedere tutto in un minuto e ventiquattro ancora tanto tempo 4 a 0 intanto per il francese carico Luca ha provato con questo suo Uramavashi incredibile Luca Maresca un Uramavashi che comunque l'ha reso particolarmente famoso nel mondo soprattutto un paio di anni fa quando vinceva i circuiti Premier League diventava il grande winner del circuiti Premier League questo Uramavashi a Duncino che viene assegnato si lamentava Steven da Costa perché diceva essere arrivato sulle spalle dovremmo rivederlo poi negli highlights un rallentatore per vedere di preciso il bersaglio dell'Uramavashi di Luca uh questo era ammirato precisamente ma non l'ha chiuso questo sicuramente era ancora più preciso di quello prima non l'ha chiuso bersaglio peccato mancato pochissimo 4 a 3 ragazzi 35 uh mamma mia queste gambe queste gambe di Steven da Costa sono imprendibili uno uramavashi uramavashi incredibile forza Luca forza Luca 7 a 3 siete due fenomeni della categoria Luca non si deve innervosire ogni tanto poi si innervosisce non va bene se resta lucido Luca può regalare delle perle perché ha un istinto incredibile 20 secondi Luca uh Rabello quella lungo Rabello quella lungo Rabello quella lungo Rabello quella lungo no che tempismo che tempismo mamma mia adesso si è si è caricato Steven da Costa ragazzi 9 a 3 questo Yoko Gheri d'anticipo che ha buttato a terra Luca due punti e adesso ancora una volta wow mamma mia mamma mia che finale che questo Steven da Costa primo Yoko scende ricarica in una velocità stratosferica chiude con un uramavashi 12 a 3 ragazzi un incontro meraviglioso